La nostra regione sta per essere interessata da aria molto fredda proveniente dai Balcani, ma di recente origine artica. In queste ore è in azione un vortice depressionario che dal Tirreno si muove verso sud-est convogliando aria temperata e umida sulla nostra regione. Aria mite che contrasterà con quella molto fredda che continuerà ad affluire da nord-est per cui nel corso del pomeriggio di oggi ci attendiamo un ulteriore peggioramento. Previste piogge soprattutto sul Cilento con nevicate nelle aree più interne a quote molto basse. Dalla serata la situazione tenterà a migliorare rapidamente ma avremo l'inserimento di venti forti con temperature in ulteriore diminuzione. Va aggiunto che il gran freddo interesserà l'est europeo dirigendosi sulla Turchia per cui la nostra regione verrà interessata solo marginalmente anche se gli effetti saranno ampiamente avvertiti. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 16 gennaio cielo generalmente poco nuvoloso lungo la costa. Addensamenti a tratti consistenti potrebbero interessare le aree montuose dove non si escludono spruzzate di neve a quote molto basse. Temperature insensibili diminuzione con valori che si porteranno ben al di sotto della media del periodo e nel corso della notte al di sotto dello zero su tutte le aree collinari interne. Venti tramoderati e forti da nord est è mare mosso sotto costa fino ad agitato a largo. Domenica 17 ancora condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ovunque con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio ad iniziare dalle aree costiere. Nel corso della serata non si escludono locali piovaschi segnatamente sul cilento centro meridionale. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote relativamente basse ma non dovrebbero determinare accumuli degni di nota. Temperature senza particolari variazioni su valori molto bassi. Gelate nel corso della notte a quote collinari. Vento in parziale rotazione da libeccio con tendenza a disporsi nuovamente da est nord est dalla tarda serata. Mare da mosso a molto mosso. Freddo che insisterà anche nei primi giorni della prossima settimana anche se in via di attenuazione. Solo tra mercoledì e giovedì è previsto un deciso rialzo delle temperature grazie alla spinta dell'alta pressione da ovest. Alta pressione che farà però solo una comparsa poiché già nel corso del prossimo fine settimana e mi riferisco al 23-24 gennaio potremmo essere interessati da una nuova intensa perturbazione. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile. Grazie mille. 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 Grazie mille.